Notizia Lampo su Omni Web TV da Nico Colani Lo chiamano erettile stress. Comportamenti poco sani, aiutini ormonali. Fattori che minacciano la salute sessuale dei maschi sempre più spesso a rischio flop tra le lenzuola. La disfunzione erettile colpisce prevalentemente gli over 40, anche se negli ultimi anni a causa di stile di vita più stressanti, diete poco bilanciate e altre abitudini poco salutari, abbiamo riscontrato un progressivo abbassamento dell'età di esordio. Anche il maggior utilizzo di ormoni come il testosterone, assunto soprattutto dai più giovani per favorirne l'accrescimento della massa muscolare, aumenta le possibilità di incorrere nella problematica. Segnala il trend Alessandro Palmieri, presidente della Società Italiana di Andrologia. Per disfunzione erettile, spiega Palmieri, si intende incapacità a iniziare e portare a termine un rapporto sessuale che sia soddisfacente per il paziente. Si stima ne soffrono 3 milioni di italiani, ma è possibile ipotizzare che il numero degli uomini interessati dal problema sia più alto.